buongiorno ragazze buongiorno a tutti e a tutti allora nuovo video di domenica video delle pulizie e devo farmi il letto quindi mi accingo per il letto e a pulirmi la mia camera a dopo un buongiorno Grazie a tutti. 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 E niente, dai ragazzi, io vi saluto qua, ci vediamo in un altro video a parte. Ciao.